difficile commentare una partita del genere una non partita giocata io tralasciando le alcune azioni che abbiamo avuto il gol di Rovaglia alla fine il gol della bandiera che vabbè non contava proprio niente io ho visto una partita bruttissima cioè una squadra completamente morta arrendevole senza un pizzico di io ho visto una squadra presa pallonate per 85 minuti poi dopo ci siamo svegliati alla fine con quel golletto delle azioni sporadiche con un tiro di zallo dal limite dell'area dopo una spinta che poteva essere pericoloso sicuramente siamo stati sfortunati di con il loro terzo gol il giocatore loro era sdraiato così ora spalla la porta sdraiato quello che tira la soterra di fronte per andare in porta prende di testa quello sdraiato che la debia la butta dentro anche sfortunati sicuramente ma non basta non basta era preventivabile dalla vigilia che sarebbe finita così una squadra che come succedono delle difficoltà come è ovvio che sia che un attaccante come Tommasini si infortuna Durzi si infortuna e compagnia bella rimani con un pugno di mosche un totale niente un zero totale un tiro gol è un tiro di zallo e qualche altra azione mi sembra uno di rosaglia non voglio dire cavolate troppo troppo poco una squadra completamente morta una squadra che non sembra trovare una reazione la sconfitta con il Pontedera è stata disastrosa questa qui con la pianese io la ritengo ancora peggio per sotto alcuni punti di vista perché è vero che hai fatto qualche azione in più è vero che hai giocato un po' più rispetto all'altra partita ma non basta non basta non basta squadre che erano nei bassi fondi delle classifiche si vanno avanti in continuazione se tu stai bruciando tutto quello che di buono è fatto all'inizio ma è logico che era così lo stavamo dicendo da sempre che è una squadra corta che come inizia ad inclinarsi trova grosse difficoltà siamo il secondo peggior attacco i numeri parlano chiaro secondo peggior attacco di tutto il campionato peggio ha fatto solamente il Milan Futuro noi con sette gol peggio ha fatto solo il Milan Futuro con cinque gol ma con una partita in meno quindi vuol dire tutto non vuol dire niente i numeri parlano chiaro siamo nel secondo peggior attacco abbiamo fatto solamente un gol su azione che è stato il primo gol del campionato con Tomasini di mischia che è avvenuto da una rimessa laterale che poi su azione siamo entrati in porta altrimenti abbiamo sempre fatto gol o su calci piazzati calci di punizione che poi dall'interno dell'area abbiamo segnato o calci di rigore questo la fa vedere lunga sì magari da un certo punto di vista possiamo essere anche cinici sotto alcune cose per quanto riguarda le azioni da fermo ma non basta è troppo poco veramente io ho visto una squadra questa sera totalmente morta proprio in balia dell'avversario che sembrava chissà che cosa stava per fare proprio un avversario normale cioè la pianese neanche parliamo del Real Madrid con tutto rispetto per la pianese ma stasera ha fatto praticamente quello che voleva tratti sfortunati ha fatto anche un bel gol il secondo gol della pianese non gli si può dire niente ha fatto un gol che dal limite dell'area l'ha buttata sotto l'incrocio il problema è come ci è arrivato partito da centrocampio nessuno l'ha fermato nessuno gli è andato addosso nessuno gli ha provato a levare palla tutti a guardargli intorno ci vado io ci vai tu ci vado io ci vai tu sono contento che è entrato Signorini finalmente dopo nove partite che non si è mai visto entra Signorini così senza boh vabbè però è entrato sono contento che finalmente Andrea ha potuto fare almeno una presenza in dieci partite con la squadra capitano del Gubbio e questo vabbè lasciamo perdere sì sono incazzato non voglio essere troppo polemico comunque sia seconda sconfitta consecutiva è vero che abbiamo fatto due vittorie consecutive in trasferta ma abbiamo fatto nelle ultime sei partite quattro sconfitte troppo poco troppo troppo poco veramente poco io non mi sono nemmeno incazzato e questa è la cosa che mi dispiace perché tu vedi che prendi gol Ale posto tanto questo gol perso perché tanto saprai che non riuscirai mai a ribaltare la partita non puoi un tifoso avere questi pensieri in testa ah quando segniamo noi questo ha insegnato miracolo l'unico miracolo che è avvenuto proprio col con il pineto che siamo riusciti a ribaltarla però vabbè un tifoso non può avere questi pensieri no io ho voluto aspettare per fare un po' il video perché ero veramente arrabbiato ho voluto aspettare un po' ho voluto parlare dopo aver sbollentito e dico che così non va affatto bene così non si va lontano così veramente si rischia brutto bisogna darsi una mossa e questo deve far capire che sia una squadra molto corta che come come qualche pedina viene a meno crolla il castello completamente era preventivabile io me l'immaginavo che finiva così non è che lo sapevo speravo con tutto il cuore che non era così ma tanto me l'immaginavo brutta cosa brutta cosa speriamo di rilanciarci bene domenica abbiamo una partita importante contro la Vispesaro squadra in forma che ha vinto speriamo di una reazione me lo auguro di cuore sempre forza pubblico ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ciao ciao Grazie a tutti